bene abbiamo iniziato per beatrice eccoci ciao a tutti conto da 5 a 1 ti connetti a beatrice 5 4 3 2 e 1 la vedo è un uomo che mi mostra lavoro che faceva era un una guardia di frontiera una cosa strana mi dice che era conosceva il nonno di beatrice lavorava insieme al nono di beatrice lavorava era ruolato insieme al nono di bretti beatrice durante durante la prima guerra mondiale il nonno materno che l'ha molestata si chiamalo ci sono tre personaggini che hanno voluto tanto poco bene a beatrice il padre la suocera e nonno materno chiamiamoli tutti subito come disincarnati prima però chiediamo l'autorizzazione a beatrice per questa sessione e si fa un gesto ma per dire certo ok siamo qui per questo oggi come si presenta il nonno e come interagisce con la guardia vita parallela di beatrice allora si presenta vestito come la guardia beatrice diciamo che è come se lui fosse sempre stato attratto da beatrice anche in quella vita di il nonno collega della guardia in questa vita della guardia c'è l'attuale madre di beatrice se c'è stata i primi era molto piccola e poi beatrice in quella vita di poi morta e verrà anche quella anche lei era oggetto diciamo dell'interesse del nonno guardia sì anche modo cioè la madre cos'era un'altra guardia ma no lì finché allora io vedo la parte finché c'era vedo sono andata a vedere la parte finché c'era anche beatrice ok beatrice morta è morta è morta è morto prematuramente ok e finché c'era anche beatrice la mamma quella che poi sarebbe stata la mamma era piccola e che cos'era una guardia era una figlia no era la figlia del era già la figlia allora li vedo durante la guerra mondiale poi passa la guerra ok vanno avanti con la loro vita e il papà nonno di beatrice si sposa e fa la mamma di beatrice capito non ho capito no allora beatrice ha in questa vita un nonno una mamma nella vita del soldato beatrice il nonno chi è collega adesso non si è un collega la che poi diventa suo nonno però la si qua si meno collega grande non ho capito praticamente beatrice si reincarna ce l'ha la ps del soldato beatrice si reincarna in beatrice sì sì questo lo abbiamo capito ma c'è quindi è come se nella stessa vita il nonno la incontra due volte perché qual è la causa e perché doveva come se lei dovesse chiudere qua questa storia con questa ps di questo nonno di questo tipo questo elemento qua vabbè chiamalo il nonno chi si presenta si presenta lui vestito da soldato come erano durante la prima guerra mondiale e l'analzati le frequenze così eliminiamo del tutto questa tosse alzare concentrare sulla gola mettici una d'eterno e mettine una gigantesca torna tutto il tuo corpo tutto quello che ha provocato questa tosse è buttato in un buco nero non ti interessa più fa parte di un passato dimenticato e fatto chiamiamo di nuovo il nonno il padre e la suocera allora la suocera parlava male di beatrice il padre era di una negatività infinita critico ne eccetera e il nonno uno schifoso di fatto ok viveva in casa tirava fuori i suoi gioielli davanti a una bambina di qualche anno bisogna dire le cose come stanno il nonno da nonno chi abbassava i pantaloni e le mutande ok non ha che brutto no bababa bababa cimettina che tiene gli occhi sui le mani sugli occhi sulle bocca o sulle orecchie no è questo anche perché probabilmente fra poco dovrete farvi delle belle notate in piscina in questa roba quindi verrà avrete tante cose speriamo anzi speriamo io voglio che vengano dette tante cose assolutamente nel mondo e non la solita cosa e non lo voglio sapere è no e no al cazzo no al cazzo proprio e no bisogna saperle queste cose perché queste cose non sono il nonno queste cose sono molto molto diffuse molto 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 diffuse e quando lo dico qui nel video mi dite di fare delle indagini su questa qua scomparsa quell'altra scomparsa la figlia dei vip scomparsa in america e io rispondo scocciato che non mi va molto e non me ne frega molto io non faccio quello che mi dice la televisione che mi dice che io devo preoccuparmi della tal scomparsa della bimba o della ragazza che si è fatta il viaggio in america figlia di due cantanti italiani molto famosi a me interesserebbe di più sapere che cavolo di fine fanno e non centinaia non migliaia non decine di migliaia ma centinaia o milioni di persone che non ci sono più al che è quello numero dice la televisione quello lo vorrei sapere e quelli sì che faccio un'indagine non faccio un'indagine su una scomparsa vip e così come mi dice la televisione è un fatto importante no quello non è un fatto importante è un fatto detto dalla televisione che vuole diventare importante perché la televisione mi dice che è importante ma non è importante non è importante uno è importante un milione non è importante uno figlio di vip è importante un milione di sconosciuti nati nei sotterranei quelli sono importanti ok chiusa parentesi ok chi si presenta il 3 si presenta ok messaggio del padre quasi non sapevo come come vivere io figurati se riuscivo a dire a te come come fare ho fatto i figli perché si dovevano fare mi dicevano la società diceva cosa cosa fare io facevo ma non so proprio come si faceva messaggio della suocera avrei voluto marito uguale a mio figlio e io per questo ero invidioso di te questa è la motivazione ora siamo qua cosa vuole dire a beatrice che la chiamata e che forse le offre la possibilità di andare nel totale aureo forse adesso che ho visto come funziona ti chiedo scusa perché in effetti non c'entrava niente con quello con il mio comportamento era una roba mia ok non cosa dice per non lo dice l'hanno fatto anche a me quando ero piccolo e non potevo far diversamente era una cosa più forte di me ti chiedo scusa ok portale aureo via no ok chiuso ok elena mettiamo una d'eterno ma in tutti i posti e nelle persone che ostacolano la discloscia il rilevamento la rivelazione di quello che dicevo prima tutti i nodi in tutte non lo so le testate giornalisti che gli studi televisivi dove si frena questa dove si licenziano le persone che ne vogliono parlare dove si frenano i direttori che vogliono cambiare dove si licenziano questi direttori ecco lì una d'eterno quindi licenziamento non avviene la persona che voleva parlarne in diretta sorpresa non viene selezionato non viene individuata e ne parla di in diretta i documenti che venivano nascosti non vengono nascosti i documenti che si stanno per distruggere non vengono distrutti anzi qualcuno riprende li spedisce che di dovere ad eterno ovunque da ogni parte si riesce ad eterno a ricreare l'equilibrio perso tutta una questione l'equilibrio sempre e solo fatto una vibrazione di beatrice 596 milioni consapevolezza 113 psp 43 57 vite precedenti 1628 la 1627 quella della guardia per forza cervello usato 78 ok entità eteriche c'è un settoide c'è un frappone forme è un rettile ma c'è questo rettile che ha tipo tre teste no tipo una grande su piccoli ma secondo me c'è un è uno tanta scena e sopra chi c'è sopra odino e zeus ok entità mentali ci sono se ce n'è una di livello 5 una di livello 3 una di livello 2 ok quella di livello 5 quali compiti a quella che è quella che la fa entrare in depressione spesso che la fa pensare che ne fa pensare ogni tanto vuole che faceva pensare ogni tanto al suicidio alla possibilità del suicidio sì più che ha veramente amala l'ipotesi della lo pianificava e poi si faceva una risata come diciamola così era diciamo che anche per l'entità di veloci questo tipo di entità poi ci sono altre ma questo tipo di entità di livello 5 è proprio cioè lo scopo era abbassare le vibrazioni a tal punto quasi da essere avvicinarsi quasi alla morte ma non sono lì ok perché sennò se muore non possono più cucciare niente c'è non possono perdere no la piccola del gregge diciamo che l'intento non era proprio quello era semplicemente creare esatto creare una bassa frequenza esatto molto bassi nessuna entità non aveva mai pensato a perdere davvero mentre l'instigazione al suicidio entità di livello 11 può essere mi ricordo bene 11 di sopra 10 o 10 non ricorda sì io direi dieci ok quelle che sverso sì sì è un'altra no 10 10 scusa mi piace 11 e o comunque sopra la macchina a magma c'è quello rosso almeno vedo io vedo così sì comunque suicidi vero e proprio 10 2 3 quella di livello 3 è quella che le fa è quella che le provoca che le provoca tutti quei dolori sono due tipi di allora quella di livello 3 quella che le provoca i sintomi che vanno dallo stomaco alla testa ok capi allo stomaco dolore alla testa lei dice cervello se si sente un qualcosa che va dallo stomaco al cervello passato dal tubo di gerente immagino sì 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 vedo tubo di gerente poi qua come se fossi ci fossero le cuffie no fa così poi va nella testa c'è dice dentro ma un tipo alato e poi dentro la testa vedo che qua c'è tipo un impianto mentale a cerchio a forma di cerchi proprio in mezzo e da lì partono questi due impulsi che vanno di fianco alle orecchie poi giù entrano nella gola arrivano allo stomaco dove c'è un impianto eterico dove c'è un edl che manda il primo impulso e arrivano poi informazioni delle vibrazioni basse al cervello all'impianto mentale dove l'entità di livello 3 prende ok e la 2 la 2 è quella allora lo scopo diciamo i pensieri che le manda sono mi vedo brutta non sono adeguata tutte queste cose qua al solito no un po confusione che crea confusione che crea pensieri di bassa autostima però agisce anche a livello fisico ok vedo che il fatto che lei senta male a tutti le articolazioni questa è la prima volta che lo vedo l'abbiamo visto che una delle ultime vedo proprio vedo proprio che come se ci fossero appunto dei nodi a livello delle articolazioni no dei punti di di comunicazione tra questi impulsi che questa entità mandano come se fossero dei micro impianti però ci sono piccoli sono proprio delle zone dove c'è il collegamento del dei loro del passaggio del loro impulso energetico negativo e va proprio fino ai piedi e poi torna su su tutto il corpo questo è serve per due motivi prima per prendere le informazioni vibrazionali delle vibrazioni basse e crearle basse e in più per giucciare anche l'energia va bene ci sono impianti eterici e mentali mentali c'è quello lì quello che ho visto e ti eri ci lo vedo ne ha uno a livello dell'utero ma basta e poi sono qui micro impianti piccolini alle articolazioni basta cause tutte le ca di calo della memoria vuoti di memoria è l'entità di livello 2 di autica a dire la ciro cani energia invece è proprio dato dall'entità di livello 3 quando fa quella cosa che gli manda questi impulsi forti la sua giusta si proprio un calo di energia forte viaggio astrali sono abduction sono abduction se si vede nel futuro ma no quello vedo non è un abduction ma è come se ne avessero fatto come se l'avessero fatta vedere nel futuro apposta no per farle credere che lei può vedere ma per fortuna avete lei non c'è cascata perché abbastanza consapevole per sapere che quello era qualcosa di strano ci sono cloni allora se c'è un clone e è in stand by e diciamolo come se lo stessero istruendo è come se cercassero di mandare quando fanno le abduction e vedo di fianco no vedo beatrice e clone e gli passano come se gli passassero le informazioni vibrazionali cercassero di passare le informazioni vibrazionali al clone lo scopo poi è quello di nel loro progetto ci sarebbe questa cosa ma che non funzionerà mai però allora prima è passare le informazioni vibrazionali dall'umano al clone ok poi una volta che il clone a tutte le informazioni vibrazionali secondo loro è abitare il clone per loro così da così che loro possono vivere come umani quindi con secondo loro quelle vibrazioni della ps ok dolore la testa l'impianto mentale spalla destra le frequenze che dimanda l'entità di livello 2 gomiti anche volsi ginocchia anche tutte quelle articolazioni di tutto quello la cosa lì intolleranze alimentari è una conseguenza di tutti questi problemi queste questi impulsi che gli manda l'entità di livello 3 a fuori di mandarlo proprio a livello fisico si infiamma orticaria apparentemente dovuta a un'allergia da contatto di materie plastiche poi gli etilene polipropilene insomma plastica più più che una causa esoterica io vedo una è come se la ps fosse la sua ps avesse questa memoria di non rifiutare un po a grandi linee ciò che non è biologico e naturale completamente no è come se riconoscesse in qualche modo che lì non c'è niente di naturale organico diciamo esatto si organico organico esatto perché poi l'altra plastica è un derivato del petrolio petrolio è tossico per noi che rimane esatto esseri viventi è un materiale di scarti detto a sintetico ecco è creato esatto come si sa io più o meno è una conseguenza di queste cose fisiche tutti questi sintomi come se facessero sempre infiammare un po l'organismo cielo vedo proprio tutto un po sempre affaticato infiammato stitichezza ma vedo che ecco più una cosa sua più una reazione sua di personalità nel senso come reagisce un po è più emotiva questa più che causa esoterica emotiva come se non fosse sempre tranquilla di poter lasciare andare le sue feci ecco questa cosa qua perché come se non si fidasse del posto dove le lascia esatto no come se lasciasse una cosa sua come fanno i bambini spesso i bambini hanno questo problema lo fanno il giardino i bambini non lo fanno nella natura perché è una cosa loro ma almeno lo lasciano nella natura non nella nell'altro misterioso della fogna bene abbiamo parlato della fogna ma prima di parlare bene della fogna chiamiamo i figli nel cinema e tutti quelli che si vogliono presentare per esempio il marito i due figli maschi e i tutti quelli della sua famiglia che vogliono entrare nel cinema con l'intenzione di vedere delle cose marito non è venuto la mamma si vede la mamma il fratello anche i figli quindi marito no i figli si la mamma ha mai detto che vivano si ok fogne sì 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 fogne paura dei topi i colonizzatori delle fogne allora ti descrivo questa immagine perché prima era come se fosse una sua vita nome era arrivato a questa immagine che lei doveva combattere po tipo l'ho vista che doveva combattere un po di proposta l'immagine la fogna contro i topi con una cosa ma pistola tipo quella dei ghostbusters una roba così per catturarli e poi in realtà però ho visto che questa scena un po spostata tipo nello spazio quindi ho capito che questa sua cosa è che vede penso veda i grigi che si mettono si mettono sotto forma di topi non lo so no è un po distorta banni vengo vedo questa navicella con lei tipo con in mano questa cosa e questi grigi che un po sono grigi e poi si trasformano in topo grigio torce ecco questa cosa ma questi grigi dov'è chi li ha visti non ho capito questa cosa in una navicella in un abduction è esatto dove lei è riuscita una una volta è riuscita beh come sta facendo ultimamente mi sembra che era regalo che sirsi esatto che che magari vedeva che ha visto ultimamente no qualcuno che arrivava forse proprio i grigi dicevano mi ricordo però raccontava prima no che gli è capitato di vedere o sentire qualcosa diciamo voi non mi prende a tipo che la tiravano anche per il dito ok ok le dicevano lasciate stare la mia mano ecco quindi ultimamente riesce un po più a a tenerli fuori e questa era una di quelle volte allora uniamo due punti in uno perché sono molto simili diciamo che ha dei rapporti conflittuali con tutti i membri della sua famiglia soprattutto della sua famiglia della sua casa il marito e i due figli è considerata un'estranea una schiava no quello che cucina non va bene ha tutto schifo se i figli hanno fanno delle cavolate è colpa è colpa di lei ovviamente perché figli sono solo suoi e di lei che non li ha educati è colpa di lei insomma tutti contro di lei anche i parenti anche gli amici anche il cane che troppo grosso che ai dentoni lei si sente estranea nella sua casa lei l'unica donna in casa quindi è la regina della casa del focolare domestico ancora di più a quadrato forse eppure è la più tartassata questi due figli che sono sembrano almeno uno molto consapevoli perché dalla madre lì un po la modalità con cui forse lei anche anche in questa parte si sente un po insicurano un po incerta di come può fare e quindi diciamo il suo atteggiamento nei loro confronti fa sì che loro prendano sopravvento io vedo adesso non so quanti anni hanno ma vedo un po la cosa tipo adolescenza così no che devono fare tutto il contrario di quello che gli viene detto di fare e loro stanno via facile con lei vedo un po questa cosa qua ma è più in generale ho visto che è proprio un contratto che lei ha nel cluster già da qua c'è da qualche ha ripreso un contratto di un po di vite fa dove deve fare l'esperienza di sottomissione completa no quindi la donna non vale niente può diciamo questo concetto no che la donna un oggetto è solo deve fare solo un po cenerentola ecco e quindi c'è questo contratto che lei ha dov'è questo contratto nel cluster se come si intitola questo contratto shaling shaving sì non so perché mi è con la parola perché non c'entra niente con l'immagine è venuta shaving e poi tipo un panno che spazza per terra la polvere aspetta shaving vuol dire ma questo è il progetto è il nome del progetto di beatrice anche sì io ostento a capire il senso di tutta questa situazione oggi francamente però va bene così dei figli cosa vedi nel cinema sono consapevoli sono non consapevoli allora non erano consapevoli però li vede interessati li vedo ti vedo molto interessati a quello che stanno vedendo interessati proprio a cogliere tutte le informazioni e eventualmente ad usarle chi dei due più grande più piccolo più piccolo lo vedo più interessato ok a quanto vibra il più piccolo 7,5 miliardi adesso vuole insegnare alla madre come vibrare a questa frequenza così con tutte le interferenze dei contratti della madre beatrix è bello l'immagine perché proprio come adesso non so quanti anni ha ma io lì lo vedo come se si facesse bambino di nuovo no quindi come se può far vedere la mamma proprio la genuinità dei bambini nel fare le cose no pure e quindi fa vedere guarda mamma fai così e ha un piano in mezzo a lui no che lo attraversa tipo di vibrazioni altissime e lo porta su e giù dai piedi dai piedi fino alla testa su e giù per continuare alzare le vibrazioni ci fai così fai così che si alzano e si alzano adesso è arrivata 900 milioni ok mentre lei le alza chiama lì settore del falconiforme rettiliano e facciamolo fare anche al puro anche se non vogliono piace questa cosa è bellissima perché non vogliono male devono farlo stesse quindi man mano che lo fanno si dissolvono perché le vibrazioni alte fanno sì che poi loro si dissolvono e cosa vedi si autodistruggono se si aggiunti strumenti sì l'unica cosa è che finché noi non puliamo il cluster e togliamo l'avatar rimane l'idea la traccia la traccia come una sagoma trasparente come una sagoma di mezzano ok bene ma bello questo è un suicidio il suicidio delle entità e lo possiamo chiedere anche l'entità mentali 532 miss depression miss stomac e miss brutta chiamate che le chiamate così io perché più o meno fanno quello ale su e giù con questo la hop gonna su e giù sono obbligati a farlo anche l'entità mentali essi se assolutamente siccome io vedo no l'entità mentali vedo tipo il contorno no a seconda del livello maniera diversa e poi più e alto e più vedo anche l'interno però li vedevo già come se fossero chiuse in una specie di cerchio come sai sai come gli anelli di i pianeti se gioco il saturno saturno ecco ok così quindi questa sagoma in questo cerchio no che era proprio la il loro modo per andare venire aumentare ok quindi come se lì io gli metto queste vibrazioni altissime fanno andare questo cerchio su e giù finché si dissolvono e c'è solo la memoria causa esoterica della mano robotica lei sogna di vedere una mano robotica e vede le astine di altezza differente crescente che ci sono nei telefonini per indicare il grado di campo no che l'apparecchio telefonico ha in quel momento in quel punto non aveva già visto prima si è svegliata durante una svegliata si è svegliata durante un abduction e le hanno messo aveva proprio tipo questo guanto le ha visto quella mano ma ce l'aveva anche nell'altra tipo un guanto no metallico da dove poi prendono le informazioni vibrazionali della ps ciucciano ok se per stessa roba si sente posseduto dall'entità va beh questo qua 113 per cento di consapevolezza non è proprio uno scherzo non è il top ma non è neanche uno scherzo non sente l'anima non ha il 20 per cento di ps nel 43 qui riescono a l'entità mentali riescono a farle credere che quando lei ha se c'è lei la sente ma le fanno credere che invece sono pensieri così che non è l'anima che lei parla so come dire c'è le fanno credere di non sentirla così almeno lei non segue quelle cose concentrazione e creatività bassi la concentrazione gliela fa perdere soprattutto l'entità di livello 2 metà di livello 2 proprio con questi pensieri confusionari non sono all'altezza poi le mette proprio confusione a volte manda proprio pensieri tutti mischiati bassa creatività con tutte queste cose la tengono bassa perché quelle vibrazioni basse è difficile svilupparla cioè si sviluppa di più con vibrazioni alte e con la centratura con la ps è proprio spazia enormemente in quei casi di quando si arriva essere centrati va bene abbiamo visto praticamente tutto tranne la parte come dire un po più strana dei punti di beatrice lei si chiede quali sviluppi quali talenti possiede quali intelligenze poi con della serie di domande che ho scoperto che lei canta in un coro facciamo un attimo il quadro siamo gli avvocati del diavolo non noi quindi in casa non è ben voluta i figli non la rispettano il marito men che meno lei lavora col marito e tra l'altro fa anche il lavoro di segretariato in un'attività di famiglia quindi come dire se c'è un problema è colpa sua si è anche trovato un lavoro no dove ha a che fare con un uomo che ormai è così poi ha il suo preferente poi chi è che lo deve cambiare se non si cambia da solo no quindi che volevano fa cioè la domanda quali sono i miei talenti non esiste perché i talenti propri uno se li deve cercare e coltivare li deve sì ma li deve anche proteggere da un contesto un incerno positivo non il lavoro con un marito tossico che è a casa e al lavoro questa le sta sempre con questo qui che tossi di fatto non è che siamo qua dire devi divorziare no però devi prendere delle decisioni almeno limitare questa tossicità al limite le sue c'è comunque imporsi almeno una caratteristica una indole un indole che le proviene da una vita passata parallela un sogno un segreto o qualcosa che lei non sa perché tu invece vedi così almeno i video in maniera evidente perché poi tutti siamo contenti di cantare di ballare di divertirci di esprimerci con un pezzo di carta chi più chi meno però più o meno tutti siamo desiderosi di se quella l'immagine che mi arrivato ha subito prima quando dicevi i suoi talenti non è arrivata questa cosa che la vedo insegnare ma non in una scuola in una classe c'è vedo divulgare le sue divulgare quello che le piace ok più però a un età tendenzialmente bassa quindi bambini tra i dieci bambini e ragazzini tra i dieci e quindici anni no quindi potrebbe essere boh vedo anche qualcosa di manuale vedo anche un po si potrebbe essere anche un po il canto no magari ecco magari il canto invece essere la coordinatrice di un gruppo di bambini che cantano oppure insegnare a loro qualcosa di vedo proprio sai manuale tipo potrebbe essere che non so fare l'orto con i bambini cosa così però la cosa che mi è arrivata è trasmettere le sue passioni ai bambini bello bene e beatrice bene andiamo adesso come ultima cosa alla scoperta di babbo natale no alla scoperta c'era una canzone orribile che diceva la scoperta di babbo natale vabbè bisogna sdramatizzare ogni tanto perché parliamo di cose abbastanza terribili alla scoperta della residuo mentale sfumatura della mente dell'entità mentale o dell'entità mentale collettiva che lega ancora oggi beatrice al ricordo visto che le stesse dice ancora ne parlo di quella violenza dove è questo un gioco quindi volendo anche la violenza è niente eppure la violenza incide nella sua vita gioco di adesso quindi dov'è questo ricordo dov'è questa questo qualcosa non so neanche come definirlo che incide perché lei ne parla oddio era serenissima mai visto nessuno parlare di una cosa così orribile in maniera così serena però ne parla e le stesse dice lo superata con la psicoterapeuta ma forse non del tutto perché sono ancora qui che ne parlo oggi è di fronte ai punti e al famoso foglio bianco che abbiamo tutti davanti lei l'ha scritto secondo punto ok non primo ma neanche ultimo secondo punto vedo direi sulla corteccia ok quindi la parte del cervello superficiale più superficiale alla fine qua dove c'è lo cipite quindi in corrispondenza più o meno dello cipite e la vedo proprio vedo un po come se fosse a zone no questa parte della corteccia un po dove vanno come se si accumulassero i ricordi lì c'è una fascia sotto che sono quelli quei ricordi pesanti che ancora pesanti che se una persona ne parla o pari prenderli sono proprio senti ancora la stessa identica sofferenza ok poi come se questa massa diminuisse un po e man mano che mi diminuisce sale e va in una zona un po più più in alto un po più qua dove ci sono i ricordi in generale ok eliminiamo i questi ricordi buco nero definitivo portale nero definitivo portale definitivo ok ok chiuso portale perfetto e andiamo all avatar adesso beatrice che si è sentata un secondo è tornata siamo all'avatar scusami alla cluster scusami scusami e riandata all'avatar vabbè come era l'avatar diciamo dal contrario oggi era vestito da sei quei romani che controllano centurioni sì che controlli gli schiavi sono i centurioni ma si potrebbero quelli che comunicano però vabbè quelli vestiti così era vestito così ma il centurione era un grado militare se non ero poi cosa che mettessero a fare dipendeva fatti dipendeva dal momento tanti fatti se c'era nessun altro prendevano un centurione c'era nera proprio soldato sempre non c'erano così tanti gradi soldato semplice centurione che bo e poi al sergente non è capito niente dei piedi gradi a non fare niente di gradi francamente a proposito ci sono un po di scemetti da buttare nel portale dell'oblio che prima sentivo la mia voce è come se tu lo è come se tutte le volte tu lo dici quando stanno arrivando ok da dove entrano da un portale se si ha creati punti negli metri davanti il portale appena loro arrivano qui da già tappi pubblicicato il portale dell'oblio quindi loro entrano fanno tutto un tubo e vanno di là e sulle parole ai pareti del portale dell'oblio c'è scritto cesso 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 vc cesso cesso e loro sanno che sono degli perché stanno andando nel processo l'eccesso ci vanno gli non posso dirlo non sono di censura dal video però str quindi vanni e nessuno se li ricorderà più ok direi di andare lavato e lo teniamo lì un attimo andiamo alla cluster ci sono 1628 vite un numero giusto troppe ne troppo poche anche se troppo poche non è male quasi nessuno e all'inizio sono più o meno tutti però poche vuol dire averle distanziate parecchie aver fatto tante esperienze ogni vita allora una forma strana potrebbe sembrare si sai la forma della corona ma senza tutti i gioielli c'è senza tutti i i gioielli davanti quindi diciamo la base della corona e basta è fatta così più più grande più contratti a e più piccolo e meno contratti alla vita ok via tutti ok chiuso portale definitivo sto facendo vedere abbiate dice come fare da d'eterno che e l'ha messo lì avatar apre il portale definitivo ce l'ha buttato dentro per chiude tra l'ha detto l'ha detto lì impianti entità mentali entità eteriche c'è ancora qualcosa no abduction clone no etl ok 59 ad eternum fisico corpo fisico il corpo e emozionale qual era l'emozione principale dell'emozionale beatrix tristezza e depressione tristezza depressione si viene depressione però vedo questa tristezza profondo ad eternum lì che si accende adesso mentale subliminale ed eterico 5 nuove ed eternum 7 in totale che è un bel numero l'entità suicide si sono suicidate comunque sono scomparse quella traccia è ancora visibile no no ok benissimo con questa nuova condizione le presunte intolleranze alimentari ed allergie da contatto con polimeri essenzialmente ma magari non solo hanno ancora una solida base su cui poggiarsi no ok potrebbero persistere e se sì in che modo perché è un po la memoria che lei c'è con le condizioni di ora qualsiasi cosa lei mangia non dovrebbe dargli fastidio tranne che c'è ora qualche giorno nel senso che a livello fisiologico il fisico si deve un attimo riequilibrare no quindi due tre giorni una settimana massimo e tornano normale ma se lei mangia un cibo ed è consapevole di questo anche se sente un fastidietto sa che poi va scemando se invece lei mangia un cibo con il timore che le dia intolleranza allora quella memoria li può far tornare le cose cioè può far tornare le interferenze prima ok con questa nuova condizione avrà ancora paura della morte dei topi sempre il discorso il discorso del ricordo se si aggancia al ricordo riparte tutela morte la fine del gioco di un capitolo del gioco sì quindi a qualcosa di cui aver paura no fa parte anche quella dell'esperienza la ps nand game si un game over no come se provi a fare un mondo io mi ricordo quelli che i primi no che c'erano questi mondi che c'erano questi mondi che tu dovevi superare e se riusciva a superarlo riuscire a fare tutta l'esperienza finivi il mondo altrimenti magari morì via metà cadevi in un burrone venivi bruciato c'è quindi è come fare tanti mondi finivi le vite e le opportunità e poi si tratta il gioco lo riprende il capo esatto e quindi è proprio no portare a termine l'esperienza quindi anche la morte in sé è fare l'esperienza della morte in vari modi per poi ricarica a non farla più io non mi ricordo più se il portale auguro l'abbiamo aperto e fatto no con la parte iniziale con i tre fatta sì 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 non ero sicuro va bene vabbè qui ecco 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 cosa succede qua arrivati altri ma sono arrivati ma vanno adesso non è mai adesso vanno diretti 8 anni indietro no 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 vanno diretti ne arrivano altri come se di là si accorgessero continuano a mandarne quindi ne sentiamo tutto tutto aperto tutto aperto direttamente vanno direttamente dal ton degli str vanno nel cesso quindi normale bene messaggio finale di beatrice a se stessa attenzione bene ai partecipanti del cinema che lo ascoltino bene maniera esterna e passiva perché il messaggio è di beatrice a se stessa ma due figli e marito devono ascoltarselo bene anche nella vita anche nella vita reale nella matrix ti devi liberare di di questi carichi perché sennò torni nell'obbrio dove di prima un pezzo alla volta ti devi liberare dei carichi un passo alla volta sennò non vai da nessuna parte le dice un pezzettino lei già fatto volendo fare un po di lavoro a casa probabilmente in quella direzione lì il passo successivo è a fare proprio un altro lavoro e poi così via questa cosa può ok a quanto vibra adesso 15 miliardi consapevolezza 187 rapporto tra anima e spirito 55 45 vite precedenti 997 percentuali di cervello 9,2 ok e nel cinema cosa hanno fatto i tre erano treno due figli e marito no no marito non c'era andato via ok c'erano la mamma e un fratello il piccolo fratello suo più i due figli ai suo fratello i due figli e la mamma che fanno i quattro vabbè figli sveglissimi subito hanno già preso l'istruzione già fatto anche la d'eterno ma ho preso la vita proprio entusiasti proprio entusiasti ci rivedo contenti di questa novità fantastica la mamma il fratello lo fanno ma un po più bo per dire vabbè vediamo così va bene qualcosa da aggiungere l'unica cosa la ps dice per allenarsi a a ricordarsi che quello che le intuizioni che lei che lei che le arrivano sono proprio i messaggi della ps quindi è la ps che le manda i messaggi per allenarsi in questa cosa qua scegliere dice scegli un esercizio di yoga che più ti piace ok e mentre lo fai pensa di alzare le azioni come ti ha fatto vedere tuo figlio nella sessione ok così e concentrati sui messaggi che ti arrivano ok dai l'occhiata elena alla casa e all'ufficio posto di lavoro vediamo se ci sono interferenza che ovviamente delle persone eccetera ma abbastanza piena disincarnati che non dipendono dalle persone mettiamo in casa in un ufficio dimmi no l'unico l'unica disincarnata che c'era attaccata la casa era la sua c'eramo andata pronta a tornare disconnetti da tutto e tutti noi torniamo